benvenuto a questo nuovo video oggi andiamo a pesca cosa insolita ma Ramon stava rischiando di impazzire contare i giorni che mancano da qui a settembre era lunga meno male che è arrivato Emanuele in suo soccorso e l'ha portato a pesca gli insegnerà come pescare i totani riuscirà Ramon a pescare i totani come secchi cinghiali lo vedremo se riesce a cavarsela sia col fucile anche un pochino col mulinello ho capito però farla vedere difficile guarda che non è piccolo non è non è piccolo eh devi cercate di tenere ferma fermo col mulinello c'è l'ha lei c'è l'ha lui la cosetta si ma non si ferma più veloce te recuperavano eh eh se ce l'ha va beh l'importante è che non te fermi non te li ferma cerca d'annaritmo col mulinello se te fermi te pu... bisogna vedere se mi sei mangiato tutto a me ma quello che dico io vale... vai dai 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 sì sì no che lascio qua ma quanto c'è qua per tirarlo su eh se quella è l'ha lanciato ce la sei quasi non ti ferma all'acisto lattico ecco tu sei arrivato, tu sei arrivato, piano piano piano, bello allenta un po di filo, ok basta, che lo da dietro è staccata in me? sì, sì, è così, che lo da dietro Andi qua, si Ok, prendi il coppo qua Grande Allora devi pagare davvero? Quanti metri qua? 7 6 Come sei fermato? Si E' bello grosso eh? E' più voletino! Voletino! Oh guarda che sbezzia Guarda che sbezzia Guarda che sbezzia Questa è grossa E te ne orgogliamo ma Mi scelte? Guarda un po' Guarda un po' che sbello Spegni qua la lampadina in testa Aspetta Guarda un po' che sbello Aspetta che faccia la foto, aspetta intanto questo è il video Accenda la luce No, così viene meglio no? Fate vedere Ale Belli! Aspetta ma che grosso! A posto! Eccolo eh! Eccolo eh! Stiamo arrivando Cesemo perché è store nylon! Penso che stiamo proprio... Ma manca la lucetta si vede! Cesemo, siamo proprio gli ultimi metri questi eh! Eccolo! 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 Vabbè bellino dai! Aspetta con recupero! Chi è? E' mini! E' mini! E' mini! Grande Emanuele! Vabbè io mi sono salvato dal cappotto stasera! Eccolo! Gian Jorge! Filippo al Grazie per la visione!